L'artista esistenzialista buonasera da tutti una poesia secondo me molto molto bella, molto intimista non so neanche come mi è capitato di buttare giù questi versi ho un pochettino cercato di fare una trasposizione emozionale in una donna, nel corpo di una donna, in ciò che è proprio una donna ma è complicatissimo, difficilissimo ogni qualvolta ci sono dei ricordi ci sono un tot di anni vissuti insieme c'è una coppia, ci sono schiaffi, morsi, offese plurime c'è un po' di tutto e quindi c'è questa mia non comprensione su tutto ciò che il possedimento, il presunto possedimento che un uomo cerca di avere su una donna e lì non c'è rispetto, lì non c'è niente non c'è amore, non c'è niente io donna, ero una tua costola, non ricordi? in questi anni con me ne hai sperati di petardi prima mi chiedi di danzare nude in casa con i tacchi e poi mi picchi oggi nulla è più come ieri sono tutta lividi quando mi tocchi c'è profumo di violenza in tutti i tuoi discorsi non bastavano calci e pugni hai riempito la mia schiena rosata di continui morsi lasciami andare se più non mi ami non sono e mai sarò la più bella tra i tuoi confusi, rottani cosa vuole dire tutto ciò? scusate un attimino e fondamentalmente nascessi da costola di Adamo quindi parte integrante di un altro corpo quindi abbiamo visto tante belle cose oggi invece prima mi chiedi di danzare in casa nuda, seminuda, con i tacchi quindi mi dai un riscontro di una certa sensualità poi incomprensibilmente mi picchi quindi sono tutta lividi c'è violenza nei tuoi discorsi c'è violenza nella tua testa c'è questo incomprensibile atteggiamento di possesso nei miei confronti che io onestamente poco comprendo e quindi c'è una schiena che è maltrattata malvenata ricca di morsi quindi di echimosi, di segni vari e dice se non mi ami per favore lasciami andare io non sono un possedimento non sono un oggetto quindi non sarò mai seppur la più bella tra i due confusi, rottani soprattutto quello che è oggetto per la tua vita ma oltretutto è vissuto in perpetrata confusione l'artista esistenzialista buona rottata a tutti